E' molto difficoltoso. Maestro, vorrei arrivare alla fine questa sera per il semplice fatto che è a 176 di groma. E la realtà è in francese, però vi spiego che con un po' di mimica la faccio. Allora, è una gallina innamorata di un gallo che non la vuole più. Allora vai tutti i pollai a fare un baccano, incredibile. è difficoltosa perciò io ci riprovo prego pianta 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.